Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, oggi, 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 video all mercato. Questa è la prima volta che porto questa tipologia di video, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, un bel like di supporto se vi fa piacere e di seguirmi anche sugli altri social. Comunque vi lascio tutto qui sotto nell'info box. Allora, ho preso un pochino di chicche al mercato e sono rimasta piacevolmente sorpresa, perché ho trovato veramente delle cose molto molto carine a soli 10 euro. Grazie, qui ci sono 10 euro di cose e adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Ovviamente, forse sono andata troppo tardi, c'era veramente un sacco di gente, quindi non sono riuscita a ravanare troppo, ma il bello del mercato è che nelle bancarelle trovate veramente delle cose pazzesche, di qualità anche, a pochissimi soldi. Ma veramente, ragazzi, pochissimi soldi. Qui ci sono 10 euro di roba e adesso vi faccio vedere. Allora, come prima cosa, ho preso questa. Questa pochettina, guardate, quant'è bella. Ne ho un'altra simile, però questa qui è veramente, veramente bellissima. Cioè, guardate quant'è carina con questa catenella. E l'ho pagata solo 3 euro, ragazzi, 3 euro. Nuova, nuovissima. 3 euro, una pochettina. È veramente super, super carina. 3 euro. Ecco, pelle, bellissima, rossa. Poi, ho preso questa magliettina che voi questo video lo vedete dopo il video precedente. Quindi, nel video che ho fatto prima, me la vedete addosso. E è questa magliettina rosa, bellissima, fatta a costine, in cotone, super, super morbida, ragazze. Super morbida. Pagata solo 2 euro. Ma è fatta benissimo, guardate. Fatta proprio benissimo, morbida, a costine. Veramente, veramente carinissima. Cioè, raga, 2 euro. Ovviamente, gli indumenti li vado a lavare, eh. Non li metto addosso, non ve li faccio vedere indossati, perché prima li devo, appunto, lavare. Poi, la chicca, che io sono rimasta veramente sciocco basita, è questo maglioncino qui. Cioè, appena l'ho visto, ho detto questo è mio. Guardate che carino, ragazze, questo maglioncino. Guardate quanto è bello. È fatto veramente molto, molto bene. Guardate. Cioè, ha delle decorazioni stupende. È di lana, quindi è molto, molto pesante. Ed è di un color panna. Un color panna molto, molto bello. Ovviamente è da lavare, perché qui è un pochino... Non riesco a capire se è il colore, perché non è bianco, è un color panna. E ha dei punti, un pochino, soprattutto qui le maniche, un pochino più scure. Però, ovviamente, lo vado a lavare. Non ha buchi, non è assolutamente rovinato. Ma proprio no. Non ci sono macchie, non c'è assolutamente nulla. È fatto proprio così, vedete? Ha delle sfumature. Ha un sacco di sfumature, questo maglioncino, vedete? Ma poi, ragazzi, è bellissimo. Cioè, guardate quanto è bello. Con un po' di colletto, proprio adatto per questo periodo. Maniche un pochino larghe. Cioè, è veramente molto, molto bello. Io appena l'ho visto, ho detto, questo è mio. È fantastico. Bellissimo. Color panna. Molto carino. Adesso lo metto a lavare, ovviamente. Non vedo l'ora di indossarlo. E mi piace un sacco. E qui c'è anche la marca Wildflower. Wildflower. Non so che marca sia. Comunque, è molto, molto bello. Mi piace un sacco, ragazze. Pagato solo 2 euro. Ragazze, 2 euro. Un maglioncino pesantissimo. Cioè, appena l'ho visto, subito l'ho preso. Fantastico. Poi, come ultima cosa, ho preso questa camicetta. In stile un po' vintage. Guardate che bella. Mi piace un sacco, ragazze. Guardate che carina. Questa è bellissima. Bianca. Ne ho un'altra simile a questa. Perché più o meno le cose si assomigliano. Vabbè. Secondo me sono rimanenze dei negozi. Con questo colletto bellissimo. Fatto così. Bellissimo. Della marca GK Moda. Non so cosa sia. Vabbè. Bianca. Semplicissima, ovviamente. Un po' leggera però questa qui. Però secondo me con un gilet sopra è... O con un maglioncino. Ci sta molto, molto bene. Con i bottoncini. Fatta molto bene anche. In cotone. Semplicissima. Guardate che carina. Molto bella. Pagata 2 euro. C'è. Adoro. Fantastico. Niente. Poi ovviamente... Vabbè. Il sacchettino come potete vedere è finito. Quindi io con 10 euro ho preso la camicia. pagata 2 euro. Il maglioncino pagato 2 euro. Siamo già a 4 euro. Questa pagata 2 euro. E questa pagata 3 euro. Cioè praticamente ho preso 3 capi. 3 capi e una borsa. Guardate che bello. Cioè fantastico. In realtà c'erano altre cose. C'erano anche ragazze le scarpe. Cioè le scarpe 2 euro. 3 euro. Stavo cercando un paio di sneakers bianche. Da mettere sotto i leggings. Oppure sotto i jeans. Però non c'era il mio numero. Ragazze 2 euro. 3 euro le scarpe. Cioè pazzesco. Poi c'erano anche altre borse. Ho visto addirittura la borsa. Ma non sapevo se era fake. Della Louis Vuitton. Però mi sembrava fake. Sinceramente. Ma io ho visto degli all mercato. Dove vendono ragazze robe di marca. Tipo Armani. A 2 euro. A 3 euro. Non ho cercato bene. Nel senso avrei dovuto ravanare un po' di più. Solo che era pieno così. Cioè gente che mi veniva addosso. Gente che mi spostava. Non riuscivo bene. Non ero tranquilla. La prossima volta. Caso voi ci vado un pochino presto. Perché sono andata un pochino. In un orario un po' di punta. Dove c'era molta gente. Però secondo me. Se ci andavo prima. Sicuramente compravo più cose. Però ragazze. Cioè io appena ho visto. Poi c'era un altro maglioncino. Simile a questo. Color lilla. Ragazze era bellissimo. Fatto proprio così. Uguale identico. Sempre pesante. Di lana. Lilla però. Però aveva. Sotto era un pochino rovinato. E l'ho lasciato lì. Anche quello lì. Due euro. Peccato. Perché era un pochino rovinato. Nella parte. Qui sotto. C'era un po' di. Non mi piaceva. Nel senso. Dovete guardare bene. Perché. Ovviamente. Ovviamente. Ci sono cose. Sia di qualità. Ma anche di bassissima qualità. Quindi. Dovete guardare veramente bene. Anche perché ci sono anche delle cose. Ho visto anche delle cose macchiate. C'erano delle magliette rovinate. Con delle macchie. C'erano anche le borse. C'erano delle borse un po' usurate. Un po'. Ho visto una borsa che mi piaceva un sacco. Però era rovinata ai lati. Era un pochino. Si vedeva che era stata usata. E quindi l'ho lasciata lì. Peccato. Perché era molto carina. Però veramente. Potete trovare. Delle cose. Cioè. Questa sembra veramente. Cioè. Mai messa ragazze. Questa è nuova. Completamente nuova. Devo solo lavarla. E. Cioè. Fantastico. E. Adesso. Allora. Io l'ho presa al mercato del. Sabato. Del sabato. Però qui da me fanno il mercato anche al martedì. Quindi. Eventualmente farò un giretto anche al mercato del martedì. Perché è un pochino più grande rispetto a quello del sabato. E vediamo se riesco a trovare qualche altra. Qualche altra chicca. E niente ragazze. Questo è stato il video di oggi. Spero che il mio video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.